oggi sembrerebbe da fare un video pazzo un video folle come quello di Pasquale Manna sicuramente molti di voi conosceranno il più grande venditore di macchine che abbiamo in italia Pasquale Manna quando fa le pubblicità delle sue macchine comincia a fare mamma mia ave magna batte la capoccia sul volante e dice queste cose qui ma perché perché bisogna fare quasi un video alla Pasquale Manna andiamo con ordine allora questo può sembrare un video scemo può sembrare un video goliardico può sembrare dai contenuti bassi ma in realtà è un video molto importante perché mette in risalto la non lo dico altezza la bassezza culturale italiana e anche la incapacità di comprendere quando viene truffato ma per carità non parlo non parlo assolutamente del venditore di macchine non c'entra proprio niente quello è soltanto un esempio per dirvi che ti vengono i nervi e qui c'è ma mamma mia vi magno mannaggia cuore di gesso e vi dico perché barone vassallo siamo al 2 novembre 2023 allora chiusi i preamboli scherzosi prendiamo il famoso argomento allora c'è una legge generale di apprezzamento delle persone questo lo diceva tanti anni fa anche un mio amico avvocato che mi raccontava come bisognava figurare davanti ad un giudice in genere le persone che hanno determinate caratteristiche fisiche non vengono guardate di buon occhio ad esempio da un giudice quindi se si presenta un uomo alto un metro e 90 magari con molti tatuaggi orecchini o magari squarci in faccia cose del genere non viene visto come imprinting iniziale di buon occhio da giudice e giuria idem se viene un uomo basso un uomo brutto un uomo sgraziato una persona che obiettivamente non è bella quindi in Italia se andiamo ad osservare soltanto la prima impressione iniziale verso le persone una persona deve avere dei tratti che sono esattamente un giusto mix quindi per avere l'apprezzamento del prossimo non devi essere né troppo alto né troppo basso né con i capelli troppo lunghi né calvo né tutta una serie ad esempio né con muscoli troppo pronunciati o ad esempio insomma deve essere sostanzialmente una persona media perché vi faccio questo argomento perché sto notando in giro ma lo noto dalle cose più banali vi faccio vi faccio un esempio allora ci sono dei gruppi di persone su facebook che fanno delle battute o comunque sia dei personaggi dei film la loro base di partenza per costruirci attorno tutta una serie di battute cose ironiche sketch vignette tutto quanto che vi assicuro che fanno non morire da ridere sono iscritto al gruppo di fantozzi sono il gruppo sono iscritto al gruppo di Andrea Roncato sono iscritto al gruppo di dei comici italiani ad esempio Massimo Boldi e via discorrendo in questi gruppi capita a volte che si parli anche di politica quindi si prenda in giro la Meloni quindi ahimè nonostante a me non far ridere perché non riesco a dimenticare quello che è stato fatto si prende in giro anche Mario Draghi si prendeva in giro Berlusconi tanti tutti i personaggi più importanti della della storia politica italiana c'è un solo personaggio che io ho guardato attentamente che non si può toccare perché vieni totalmente aggredito in special modo dalle donne ma anche dagli uomini c'è un personaggio che io lo chiamerei l'intoccabile chi è questo personaggio questo personaggio intoccabile è Giuseppe Conte Giuseppe Conte una persona che ha aperto la strada alla cinesizzazione dell'Italia che ha fatto fallire imprese che ha tolto la libertà che ha sprecato milioni di euro con i banchi a rotelle con i sussidi dati a porce e cani con sovvenzionamenti questa persona è intoccabile ma è intoccabile non perché se quelle azioni le avesse fatto il rospetto che c'è ora il rospetto che c'è ora viene preso per il culo sfottuto denigrato da tantissimi il drago che c'era prima veniva preso in giro denigrato messo alla berlina da tantissime persone forse addirittura il 95 per cento a differenza magari del rospetto che quel 20 per cento di persone che la difendono ce l'ha così come berlusconi non ne parliamo dei tempi di berlusconi in cui praticamente anche la televisione ogni programma che accendevi era contro di lui se tu provi a parlare a fare un mem su giuseppe conte che non ne parla positivamente vieni sbranato come in un recinto di cani da combattimento è una cosa incredibile e sto osservando questa cosa da moltissimi giorni quando poi per caso mi arriva una di quelle che fanno parte della pagina facebook le bimbe di conte una cosa del genere è praticamente tutta una serie di elogi una serie di parole a difesa del signor giuseppe conte perché si parlava si parlava ora non mi ricordo però praticamente diceva quando l'ha fatto conte avete tirato fuori avete tirato fuori di tutto il peggior veleno e adesso che lo fa questa invece state quasi a giustificarla per quello che sta facendo insomma è inutile che ci giriamo attorno la qualità del prodotto gli italiani dimostrano che dipende al 90 99 per cento dalla scatola e guardate oggi può sembrare un video banale un video che non porta contenuti specifici e invece qui c'è la chiave di quei fallimenti ispiegabili che fanno capo all'italia l'italia apprezza il prodotto in base a come glielo incarti e anche da qui chiudendo il discorso possiamo capire come la parata del sacro gral a meno 80 gradi abbia all'inizio convinto praticamente quasi il 90 per cento di questi abboccoloni che non gli puoi toccare peppino siamo veramente nella più totale guardate